bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono brutal e oggi signori siamo in compagnia del nostro caro azimoth ciao a tutti sono tornato che è tornato sul canale con noi per andare a provare le clan battle insieme a me ragazzi vi dico la verità è da un'ora che stiamo cercando di registrare questo cazzo di video perché tra problemi di connessione problemi con royal che ci sono ancora dei bug che devono assolutamente risolvere non so se ve ne siete accorti ma sicuramente vi sarà capitato ora ragazzi siamo qui per andare a provare di a distruggere gli avversari quindi ragazzi metti il mazzo quello normale faremo due battaglie una con il nostro deck abituale con cui scaliamo e prendiamo i bauli e una con un deck cancro naturalmente cercheremo di portarvi due vittorie il più belle possibile ragazzi andiamo a chiedere subito la battaglia vediamo un pochino se gabri ok ha accettato fortunatamente ok gabri ok buona fortuna come sempre d'obbligo agli avversari ragazzi stiamo trovando dei tumori contro che voi non avete idea non avete così lo ridice gabriele doppio ok subito così di domatore molto molto cattivo gabriele io parto dall'altra parte perché sono swag sono swag allora già abbiamo visto che hanno un deck abbastanza incancrenito dunque ok quello ok quello è già a posto perché si incazzano perché si incazzano cioè loro mettono l'inferno loro mettono l'inferno e hanno pure il coraggio di incazzarsi cioè boh ok dai giù tutto giù tutto giù tutto domatore di qua io ti metto lui perfetto mamma mia guarda che difesa quanto guardo guarda che difesa che attacco gabrie perfetto cazzo mamma mia perfetto perfetto e ci andiamo a prendere anche la prima torre mamma mia spettacolare cazzo se il calcolo ai polmoni veramente difesa e attacco più che perfetti più che perfetti veramente sincronized raga sincronized ok principessa ci pensi tu si ci pensi tu difendi il minatore si 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 io ho fatto così merda 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 guarda che cosa c'è lì guarda che lì ci sono dei barbari scelti lì in mezzo eh figa non c'erano nemmeno accorti ok sfraccellati i barbari scelti sfraccellati i barbari scelti hanno usato la tattica paro io non importa dai va bene così va bene così va bene così tronco tatticissima ok mamma mia guarda il mago di ghiaccio mago di ghiaccio veramente carta essenziale lasciali andare gli arcieri perfetto yes ok hai il moschettiere perfetto così ti voglio doppio moschettiere doppio divertimento però ci arriva il sì sì ci arriva ma non importa dai lo facciamo fuori subito così 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 forse riesco a mettere il domatore eh anch'io vorrei mettere il domatore ma non ce l'ho ancora pronto cazzo ok io vado in difesa ho sbagliato ho sbagliato tantissimo volevo mettere il mago di ghiaccio ma va bene lo stesso ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo non è grave la situazione non è grave possiamo ancora recuperare no siamo in vantaggio comunque sì sì siamo in vantaggio più o meno ok infatti loro ridono ok bravo hai fatto benissimo hai fatto stra bene uso una tronco mamma mia doppia perfetto onesto occhio dall'altra parte adesso non ce l'abbiamo qua occhio occhio dall'altra parte che arrivano i tumori io uso la zap pure io doppio ok ok forse un filo troppo sincronizzati li abbiamo distrutti quei barbari scelti ok guarda che c'è anche io c'è il domatore aspettami aspettami dimmi che hai la tronco dimmi che hai qualcosa no non ce l'ho vado io con la tronco ok mamma mia siamo arrivati e qua ragazzi ci portiamo a casa una vittoria spettacolare ragazzi perché sicuramente 10 secondi ragazzi forse facciamo le tre no tra coloro non ce la facciamo e invece ce la facciamo signori siamo fortissimi che duo che due ragazzi brutale azimo signori brutale azimo grande mezzo grande mezzo ok prima battaglia portata a casa ok ragazzi seconda battaglia siamo dentro io parto cattivissimo subito così con i barbarazzi scelti vediamo un pochino vediamo un pochino se riusciamo ad arrivare a torre oddio 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 ok allora peccone ragazzi siamo con il deck cancro adesso vediamo un pochino ok butta giù tutto tanto io ho l'orda di sgherri che quella roba lì la distruggo tutta senza problemi ok butto giù altri sgherri a caso perfetto non arriverà niente sotto torre oddio bravissimo hai fatto hai fatto bene da dio clono il tutto non è vero devi smetterla di sbagliare lì per la clonazione ho clonato per sbaglio dici che se butto la furia sulla sua principessa muore c'è uno sputo di vita ok devo bloccare quella roba assolutamente ok zappettina tattica ho sbagliato hai fatto bene no no hai fatto bene hai fatto bene va bene così va bene così va bene così va bene così ok guardalo guarda guarda il cavaliere quanti danni fa e non gli ho messo la furia guarda quanti danni fa il cavaliere ragazzi questo deck qua è per vendicarci proprio ce la stiamo mettendo tutta per fare i cancri il peggio che possiamo ok non ho qualcosa per difendere no purtroppo perché ho tutta roba diciamo multipla e il il mago mi distrugge tutto butta la pena prende la torre volendo ok vai barbari scelti giù il mago ok non ho un cazzo di elisir se arrivano torre metto la furia metto la furia vaffanculo dai furia 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 veloce 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 madonna madonna fanno danni al pecca va bene così allora ok io ho l'orda di scheletrini volendo no ho sbagliato non la metto aspetta prima faccio fuori il mago cazzo ok perfetto dai buttala perfetto così perfetto così perfetto così perfetto così che non è servito perfetto grande nello ok se facciamo fuori la princess adesso merda ok 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 allora andiamo a distrarre lui a manetta lo distraiamo ne mettiamo uno anche noi così giusto per vedere che cosa succede di bello ovviamente il suo colpisce il nostro il nostro non colpisce il suo andiamo così la prisa se viva io vado qua con una furia e adesso voi merda scarica la scinti o la spa e la sparchi che cazzo che ok dai un bel po di danno gliel'abbiamo portato un bel po di danno e abbiamo portato l'obiettivo di questa battaglia è farci odiare come non mai quindi penso che ci stiamo riuscendo alla grandissima qui blocco io blocco io ok ok non blocco più butto gli sgarrini hai fatto bene perfetto tanto all'inizio c'è il danno bassissimo quindi non è un problema allora vado così vado così oddio doppia fornace oh mio dio gli abbiamo poi verizzato l'orda di stelettrini guarda la torre guarda la sua torre mamma mia guarda 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 è morta è esplodono ciao ragazzi ciao e anche con il deck cancro ragazzi siamo riusciti a portarvi una vittoria veramente fantastico ragazzi fantastico abbiamo registrato il video ste l'abbiamo registrato cosa ci siamo riusciti veramente ce l'abbiamo fatto we are the champions ci sta mettila ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ragazzi allora non ho idea di quanto sia lungo il video però dire la verità quasi quasi ne facciamo un'altra che cosa ne dici siamo in ballo balliamo ragazzi visto che ci piace veramente tantissimo questa cazzo di modalità è veramente fenomenale e visto che non riusciamo mai a giocarci perché è piena di bug ragazzi connessione a manetta ci vuole veramente una bestemmia giocarci adesso che ci stiamo riuscendo portiamo una terza battaglia quindi ragazzi non perdiamo tempo abbiamo rimesso il deck normale rega non più quello cancro perché non fa proprio per noi e andiamo a vedere se riusciamo a portare a casa la terza vittoria ok io tolgo tutto qua perché voglio partire al volo dovevi lanciare prima il mio minatore santo dio ok 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 mamma mia guarda lì guarda lì che cosa ha messo giù allora io metto una princess io ho la tronco perfetto ok perfetto perfetto così mago di ghiaccio oddio 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 non è la princess merda ok 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 troppo perché quasi fa del male non è vero lanciata sì sì sprecata Però adesso metto il domatore Così a cazzo duro E vediamo un po' cosa fanno Vai 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 Oddio Ok un paio di colpetti Ok un colpo gli abbiamo tirato Un colpo gli abbiamo tirato Ok perfetto Mettilo di lato mi raccomando Esatto grandissimo così ti voglio Che il mini pecca è anche abbastanza Sì sì è abbastanza anche rapido Quindi mi piace Andiamo con doppio Merda No tranqui Oddio Azbot Oddio Mamma mia Che difesa ragazzi Non toccano la torre Che difesa Che difesa Sono sconcertato Sono sconcertato Ok mi hai veramente colpito Sono sincero Mamma mia Mi difendo così da sti tumori Veramente eccezionale Veramente c'è Io lancio l'altra torre Ma perché? A caso perché? Non lo so Non lo so Non lo so Te lo giuro Io non lo so Però lancio la scarica Qui che è utile Puff E l'hai lanciata anche Ok Ok raga E questo è il bello Di questa modalità Che si schizza Merda Ok allora io li colpisco Da dietro così In modo tale che Non andiamo sul golem Perfetto Grande 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 Giù tutto Giù tutto Mi piacerebbe che I mini pack Sopradi Così Perfetto Infatti ce l'ha fatto Lancio la tronco Lanciate io F*** ma Vengono polverizzati Quando Cioè Erano Porca puttana Erano così Insincro Che se ne vedeva una Sì ma davvero Ok 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 Vado qui con lui Merda qui ci fanno del male Ok Va bene va benissimo Va benissimo Non ti preoccupare Va più che bene Va più che bene Perché adesso noi ci troviamo Con il doppio domatore O me sbaglio Vero che ci troviamo Con il doppio domatore Doppio domatore Via andare Ho la zap Così Così Vai 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 Usala tu Infatti ho messo anche il Perfetto 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 Giù tutto Giù tutto Usala tu E la usa anche lui Noi mettono i barbari Dall'altra parte Oddio 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 Ok sono andato con una tronco Doppia tronco Merda 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 Ok 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 Allora si va tutto Sulla torre centrale Tutto sulla torre centrale Ok attacchiamo da destra Gabri Perfetto Cioè nemmeno te lo devo dire No ma serio Ma sto male Ok 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 Allora vai vai Prima dovevi mettere qualcosa Per parargli il culo però Eh scus Ok di cui difendo io Col minatore Ok ci sta Più o meno Più o meno difendo Io intanto di sopra Vado con un uomattore Molto molto cattivo Esatto Tieni la difesa Perché se arriva il coso Barbarozzi scelti è dura Ok 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 Allora io mago di ghiaccio di qua Per difendere il ghiaccio Nel caso che mettono i barbari scelti Ghiaccio Cosa fa Vi è arrivata la fireball E ha evitato il col No Sto malissimo Non me ne sono accorto Doppio domatore Cattivissimi Doppio domatore Scarica Scarica perché ti sta in pre-made E se è troppo forte E ce la portiamo a casa ragazzi Ce la portiamo a casa Veramente Alla stromega grande Signori Per questo episodio È finalmente tutto Ci abbiamo messo Mezza giornata Per registrarlo Non sto scherzando Ragazzi Spero che questo nuovo Incredibile video Vi sia piaciuto Ok Perfetto Tutto a posto Nel caso vi sia piaciuto il video Signori Pollicione su Commentate Condividete Io vi saluto Vi ringrazio tantissimo Se non siete iscritti al canale Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Qui da Brutal E Azimoth Un salutone Bella raga